Abbiamo il discorso sulla letteratura, ragazzi, e ragioniamo sulla ginestra. Allora, se qualcuno si ricorda, quando abbiamo fatto l'introduzione in questa lirica di Leopardi, abbiamo detto che è una poesia antidillica. C'è qualcuno che mi ricorda perché? E' una poesia antidillica. Questa poesia? Questa poesia? Questa poesia. Questa poesia. Antidillica, è che la inglese è antidillica. Oggi altro è che non sembra. Ok, altro numero anche, è un problema che è un problema, cioè gli inibiti a... Quindi se i piccoli e i grandi inibiti sono per base al pessimismo, vi abbiamo detto che l'elemento è l'opera di dire questa parte. Ok. Perfetto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No, non si è affatto male a nessuno Eh, ma va piano No, è bella Simpatica Grazie a tutti Grazie a tutti